Una delle domande che mi sento fare più spesso è come posso fare a migliorare le fotografie? Che cos'è che non capisco? Dov'è che non riesco ad arrivare? Cos'è che non riesco a vedere? In che maniera posso capire come migliorare le mie fotografie? Ebbene, oggi vado a raccontarvi 5 motivi per cui le immagini che state producendo fanno schifo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. Andrò ovviamente a raccontarvi come possiamo fare a migliorare le nostre fotografie senza accusare assolutamente nessuno di produrre immagini schifose. Quella era semplicemente la parte clickbait del titolo di questo contenuto. Prima di cominciare vi ricordo che questo è un canale dove tratto argomenti come fotografia, videomaking e design in cui non mancano recensioni di prodotti tecnologici mirabolanti e fantasmagorici e per questo motivo se queste tematiche vi interessano io vi invito a iscrivervi subito a questo canale cliccando il bottone rosso qui sotto e se attivate anche la campanella non rischiate di perdervi i prossimi aggiornamenti. Ma partiamo subito con la carrellata. Uno dei principali motivi per cui una fotografia può fare schifo è un errore nella scelta della focale. È evidente che nel momento in cui noi scegliamo la lente con cui andiamo a realizzare la nostra fotografia stiamo decidendo la grammatica di quella che sarà la nostra immagine. Ecco che se noi stiamo facendo per esempio fotografia macro e scegliamo un ultra grand'angolo oppure se stiamo facendo un ritratto e scegliamo un fisheye oppure se stiamo facendo paesaggio e scegliamo un super tele probabilmente non stiamo facendo la scelta più felice del mondo. La scelta dell'ottica è infatti molto importante per determinare anche semplicemente la buona riuscita dello shooting. È evidente che se io mi presento a fare fotografia di interni e mi porto dietro un 600 mm probabilmente non ho la minima idea di che cosa sia la fotografia di interni. Ed ecco che scegliere correttamente la lente riveste un ruolo di primo piano nella corretta esecuzione di uno shooting fotografico o anche semplicemente di un selfie. Infatti, questo è un piccolo bonus, non molti di noi sanno che le lenti da selfie, quelle sui nostri telefoni cellulari sono in realtà tra le peggiori per realizzare dei ritratti. Infatti stiamo parlando di lenti che nella maggior parte dei casi sono grand'angoli non particolarmente spinti ma comunque grand'angoli e quindi hanno l'effetto di distorcere i lineamenti e di produrre un effetto non particolarmente aggraziato. Le lenti migliori che abbiamo a disposizione per realizzare delle foto di ritratto sono in realtà le lenti con una focale più lunga, i teleobiettivi che presentano però un unico problema. Nel momento in cui cerchiamo di fotografare noi stessi non possiamo tenere in mano il device con cui ci stiamo fotografando. Io per esempio in questo momento ho messo la mia videocamera su un treppiede ed è lontana da me in maniera tale che posso zoomare avanti e minimizzare questo brutto effetto di distorsione che di certo non voglio nelle mie riprese. Passiamo al secondo motivo che è strettamente correlato ed è una profondità di campo sbagliata. Ora, per chi di voi non lo sapesse, la profondità di campo è la porzione della nostra fotografia a fuoco. Per cui in questo momento io ricado pienamente all'interno della profondità di campo di questa ripresa. Se io faccio questo, vedete che cosa succede? In questo momento va a fuoco la mia mano e io non sono più così a fuoco. Adesso la profondità di campo include semplicemente la mia mano. Adesso io tolgo la mano e la profondità di campo ritorna ad abbracciare la mia persona. La profondità di campo dipende dalla distanza. La nostra macchina fotografica va a mettere a fuoco a una determinata distanza e in base a questo avremo una porzione di fotografia a fuoco e altre porzioni che saranno via via sfocate. È evidente che se noi sbagliamo a gestire questo parametro il risultato può non essere quello che volevamo. Se per esempio la profondità di campo è troppo sottile, in questo caso per esempio c'è la macchina fotografica che mette automaticamente a fuoco sui miei occhi, ma se la profondità di campo fosse troppo sottile voi avreste lo sgradevole effetto di vedere il mio naso fuori fuoco e il mio orecchio fuori fuoco e solamente l'occhio perfettamente a fuoco. Questo è un effetto che ogni tanto si usa in fotografia artistica quando si vuole far vedere che si è comprata una lente con una grande apertura peraltro molto costosa. Effetto a cui io non sono particolarmente legato, lo uso molto poco, solamente in certi contesti. In fotografia può avere molto senso. In una ripresa video di questo tipo non avrebbe il minimo senso, quindi è importante anche cercare di stabilire quando un determinato artificio stilistico può avere senso per quello che vogliamo realizzare. Nella maggior parte dei casi, secondo me, avere una profondità di campo troppo sottile è sempre sbagliato perché costringe l'osservatore a cercare continuamente di inseguire quel minuscolo punto di messa a fuoco e ci obbliga a fare molta fatica. L'esempio perfetto di questo è l'ultimo film di Batman, qualcuno di voi l'avrà già visto, suppongo, quello con Robert Pattinson. È il perfetto esempio di una profondità di campo volutamente troppo sottile. Nel film è palese che è una scelta stilistica ed è fatto apposta. Io l'ho trovato molto fastidioso, nonostante il film mi sia piaciuto abbastanza, ma ho trovato questo effetto molto fastidioso perché il fatto di avere uno schermo molto grande con una profondità di campo sottilissima mi ha obbligato letteralmente per tutto il film a correre in giro con lo sguardo cercando di capire dove diavolo dovevo guardare. Perché in un fotogramma enorme, dove è tutto sfocato, tranne un piccolissimo particolare, l'osservatore si sente messo a dura prova. Quindi è importante decidere che cosa vogliamo fare della nostra profondità di campo. Parimenti non dobbiamo neanche fare l'errore opposto. Avere sempre tutto a fuoco può essere un errore perché ci sono dei casi, soprattutto in fotografia, dove noi vogliamo isolare il soggetto dal resto del contesto in maniera tale da dire al nostro osservatore dove deve guardare. Ovviamente, se c'è a fuoco solamente la persona e lo sfondo è fuori fuoco, ci sono pochi dubbi. Riuscite benissimo a capire che in una ripresa come questa dovete guardare l'unica persona inquadrata mentre lo sfondo passa in secondo piano e rimane lievemente sfocato sullo sfondo. Viceversa, in una ripresa magari molto ampia come quella del film che citavo poc'anzi, in cui è quasi tutto sfocato tranne un minuscolo dettaglio in movimento, ecco che secondo me si fa molta fatica, troppa, troppa perché rimanga gradevole. Quindi è importante conoscere questo parametro per saperlo gestire. Passiamo al terzo motivo che è il motivo incredibilmente banale ma vale secondo me la pena citarlo sempre. La luce sbagliata. L'illuminazione della nostra scena è cruciale per la buona riuscita della fotografia o della ripresa video o di qualunque altra cosa stiamo facendo. Se le luci sono sbagliate è impossibile riuscire a tirare fuori qualcosa di decente. Per esempio, se stiamo facendo un ritratto e facciamo mettere le persone direttamente di fronte alla luce del sole, le persone tenderanno a fare questo, tenderanno a strizzare gli occhi perché non riescono a tenerli aperti perché c'è il sole che glieli sta bruciando. Questo è il tipico contesto in cui una luce è sbagliata per quello che si sta cercando di fare perché le persone non possono tenere gli occhi aperti fronte sole per farsi fare la foto. Quindi potrebbe anche essere una luce gradevole per fare una foto glamour ma è sbagliata perché stiamo facendo del male alle persone che fotografiamo. Un esempio che mi capita di vedere molto spesso soprattutto in fotografie di eventi, capita molto spesso che ci siano le persone, i partecipanti all'evento che chiedono al fotografo una fotografia. Facci una foto, facci una foto e tu ovviamente ti giri e gliela fai. Però che cosa succede? Le persone si mettono in un punto a caso, non pensano minimamente a come sono illuminate e chiedono una foto in quel punto. In quel caso è nostro dovere segnalarglielo e dirgli di spostarsi a favore di luce perché se stanno chiedendo una foto e hanno la luce dietro e sono completamente in ombra, magari il retro è perfettamente illuminato ma loro davanti sono tutti scuri. Quindi li facciamo girare verso la luce ci spostiamo in un punto di osservazione privilegiato e facciamo la foto in questo modo. Questa è una cosa che possiamo fare praticamente sempre perché ovunque ci troviamo ci sarà una fonte luminosa. Ovviamente se la fonte luminosa è qui e io mi giro dall'altra parte risulterò per la maggior parte in ombra o comunque avrò la luce sull'orecchio che non è quello che voglio. Io voglio girarmi quasi a favore di luce nella maggior parte dei casi in maniera tale da avere il viso ampiamente illuminato. Questa è una banalità ovviamente e dipende anche dall'effetto che vogliamo ottenere perché se vogliamo fare una foto noir facciamo l'opposto invece ci giriamo proprio dalla parte opposta. Alla maggior parte delle volte è sufficiente conoscere gli effetti che la luce ha su un'immagine e decidere in anticipo che tipo di immagine vogliamo realizzare. Le foto non sono tutte uguali ma l'importante è pensarci prima altrimenti ci ritroviamo dopo con delle immagini brutte sciatte poco curate ed è un peccato perché bastava letteralmente girarsi di due gradi per avere un effetto più gradevole e completamente diverso. Ovviamente l'illuminazione può dipendere da quello che abbiamo in loco quindi dalla luce del sole dalla luce artificiale ma può anche dipendere dalla strumentazione che ci siamo portati quindi se vogliamo introdurre un flash una lucetta portatile un quarzino qualunque cosa ovviamente più alziamo l'asticella e più ci portiamo un'illuminazione propria anche per contesti outdoor per contesti esterni ci possiamo portare delle luci flash con la batteria quindi senza fili e possiamo alzare di parecchio il livello delle nostre produzioni quindi non è detto che se scattiamo in spiaggia dobbiamo usare per forza solo la luce naturale assolutamente un'altra cosa che vedo sbagliare molto molto di frequente sono i tempi di scatto allora dovete sapere che il tempo è una variabile per me incredibilmente affascinante oltre che di fotografia sono un grande appassionato anche di orologi e mi piace osservare le lancette che scorrono e che segnano il passare del tempo questo è un procedimento lento o veloce perché c'è la relatività e questo lo rende ancora più affascinante ma ciò non di meno è un procedimento inesorabile il tempo passa passa per tutti e passa per tutto compresa la nostra fotografia quindi esistono dei tempi ben precisi che sono necessari affinché la nostra fotografia venga catturata in maniera corretta se vogliamo catturare le scie delle automobili che viaggiano lungo un'autostrada di notte dovremo allungare i tempi di posa non possiamo scattare con un tempo rapido allo stesso modo se vogliamo immortalare un ciclista che ci scorre davanti dovremo comprimere i tempi di scatto altrimenti vedremo la scia del ciclista e la foto sarà meno gradevole i tempi sono assolutamente fondamentali per la buona riuscita di un'immagine purtroppo i telefoni cellulari non ci permettono di avere un grande controllo su questo parametro perché viene gestito per lo più in automatico e quindi se c'è poca luce i tempi vengono dilatati col risultato che la foto viene mossa e poco gradevole anche se devo dire che di recente qualcuno mi ha posto il tema del micromosso del movimento delle mani o anche semplicemente del movimento del soggetto che cosa succede nel momento in cui io sbaglio i tempi di scatto di una foto che sto facendo può non succedere niente perché se sto facendo un ritratto e scatto a un ottomillesimo di secondo posto che l'esposizione sia corretta non noto minimamente la differenza se io sto facendo sempre un ritratto e scatto a f22 può non succedere assolutamente niente certo l'immagine sarà un po' più morbida ma può essere accettabile lo stesso però che cosa succede se io faccio un ritratto con un trentesimo di secondo succede che o mi muovo io e quindi la foto viene mossa o se anche io riesco a stare così fermo e la foto viene bene lo stesso magari si muove il mio soggetto e quindi viene mossa lo stesso un trentesimo di secondo è un tempo sbagliato per fare un ritratto quindi teniamo conto di questa cosa se stiamo lavorando con una macchina fotografica cerchiamo di impostare i tempi in maniera coerente con quello che vogliamo realizzare e ricordiamoci della semplice regoletta del doppio nel momento in cui stiamo scattando con una determinata focale dobbiamo scattare con un tempo di scatto che sia pari almeno al doppio della focale per cui se sto scattando con un 50 mm dovrei scattare almeno a un centesimo di secondo se sto scattando con un 70 mm dovrei scattare almeno a un centosessantesimo di secondo se sto usando un 200 mm dovrei scattare a un quattrocentesimo un cinquecentesimo di secondo e così via dobbiamo sempre raddoppiare la focale che stiamo utilizzando ovviamente ci sono gli stabilizzatori che ci aiutano un pochino però è bene tenere a mente la regola perché così non sbagliamo mai al massimo lo stabilizzatore ci aiuta e quindi non corriamo rischi però non andiamo mai sotto benissimo amici siamo arrivati all'ultimo errore che anche questo sembra banale però io non manco di farvelo notare perché è importante ed è la distanza a cui scattiamo la nostra fotografia la distanza riveste un ruolo molto importante perché dalla distanza dipende anche la composizione che siamo in grado di fare ovviamente è tutto dipendente da tutti i parametri che abbiamo già visto prima perché ovviamente la distanza dipende anche dalla focale e dipende anche in minima parte dai tempi ora è evidente che se io voglio fotografare il Grand Canyon dovrò posizionarmi a una certa distanza per riuscire a catturarne una porzione quanto meno sufficiente a riconoscerlo se io fotografo il Grand Canyon e sto appiccicato al pavimento con una lente macro a tanto così da terra non lo vedo il Grand Canyon quindi quella foto è sbagliata allo stesso modo se sto fotografando uno stambecco che sta lontano tre chilometri e uso un ultra grand'angolo non lo vedo più lo stambecco vedo tutta la vallata ma lo stambecco non lo vedo più quindi sono foto sbagliate io devo avere la giusta distanza il giusto rapporto tra il soggetto che voglio catturare e l'ambiente che lo circonda questo anche nel caso in cui un ambiente non ci sia vi faccio il caso della fotografia still life io voglio fotografare il mio smartphone il mio smartphone deve galleggiare su uno sfondo bianco quindi non c'è contesto ok però secondo voi che cos'è meglio avere lo smartphone piccolo così che riempie una porzione minuscola del fotogram o averlo così bello grosso bello davanti la risposta è evidente se c'è solamente quell'oggetto l'enfasi è su quell'oggetto e quindi io voglio che riempia il mio fotogram il più possibile averlo piccolo così nel centro del fotogram è una scelta completamente sbagliata a meno che non sia una scelta artistica di qualche tipo ma non succede mai quindi tendenzialmente è una scelta sbagliata la distanza è anch'essa importante e dobbiamo imparare a farci l'occhio e ovviamente queste sono cose che si fanno sbagliando continuando a sbagliare continuando a fare foto sbagliate rendendosi conto a casa e cominciando a dire ok questa fa schifo questa fa schifo questa fa schifo otto questa è bella come mai questa è bella cosa ha di diverso rispetto alle altre ci rendiamo conto di che cosa è andato male e di che cosa è andato bene e nella maggior parte dei casi le foto che non ci sono piaciute le foto che facevano schifo non le faremo più ora è importante che ognuno faccia la sua esperienza che impari a capire che cosa gli piace e dove lo porta il suo percorso fotografico quindi non è necessariamente quello che dico io che bisogna seguire ognuno deve capire che cosa gli piace e cercare di portare avanti il discorso sulle immagini che gli sono piaciute o sulle immagini che gli hanno procurato clienti o sulle immagini che gli hanno fatto vendere l'importante è riuscire a stabilire qual è la propria direzione intraprenderla e scremare da tutto quello che non ha funzionato perché di solito se una foto non ha funzionato per funzionare intendo che non è piaciuta al cliente non è piaciuta neanche a noi non ha venduto niente non è servita allo scopo non è stata scelta dal cliente finale tutti questi motivi sono motivi che ci portano a pensare che una determinata foto non abbia funzionato per qualche motivo quando ci rendiamo conto che una foto non ha funzionato la scartiamo la buttiamo via e ci ricordiamo in qualche modo del nostro fallimento ci ricordiamo che quella cosa non ha funzionato e non la riproponiamo più allo stesso modo ci ricordiamo invece della foto che è stata scelta per la campagna pubblicitaria la foto che è stata scelta dalla modella che stavamo fotografando la foto che è stata scelta da nonna Peppina al matrimonio e quindi ci ricordiamo di che cosa ha funzionato nelle belle immagini che abbiamo catturato e cerchiamo di riproporre quello che sappiamo già che ha funzionato questo non è uccidere la nostra creatività a mio parere ma è semplicemente incanalarla in un qualcosa di comunque codificato come la fotografia perché la fotografia ha i suoi canoni anche se noi ci illudiamo che sia un mare creativo dove possiamo navigare esattamente come vogliamo ci sono dei canoni li possiamo seguire li possiamo imparare guardando video come questo su youtube e quindi colgo l'occasione anche per invitarvi a iscrivervi al canale così continuate a imparare chicche come questa siate menegrati e mettete anche un bel like a questo video se non l'avete ancora fatto possiamo imparare da altri oppure possiamo imparare tutto quanto da soli continuando a scattare continuando a sbagliare e scartando via via le immagini che non ci sono piaciute o che non hanno funzionato ovviamente mettere insieme le due cose quindi imparare da soli e apprendere anche dagli altri è il metodo più veloce per arrivare prima alla meta anche se in questo mestiere hobby cosa in realtà non si arriva mai alla meta è semplicemente un bel viaggio che si fa insieme bene amici anche per oggi il nostro tempo è scaduto io vi ringrazio di averlo trascorso in mia compagnia e vi do appuntamento al prossimo video un bel viaggio Grazie.